Affrontate i vostri obiettivi e cambiate la vostra vita passo dopo passo con il principio del 1%. Qual è il più grande obiettivo che volete raggiungere nella vostra vita in questo momento? È perdere peso o iniziare una nuova carriera? Vi chiedete come riuscirete a raggiungere un obiettivo così ambizioso? Non siete soli. Molti di noi lottano ogni giorno per motivarsi a cambiare e a raggiungere il loro grande obiettivo. Secondo Tom O'Neill, autore di The 1% Principle, Opens in New Tab 9,99 sterline, da HarperCollins, spesso questo accade perché stiamo cercando di fare troppo e troppo in fretta. Invece, si tratta di fare piccoli cambiamenti, dice Tom. Per raggiungere un grande obiettivo, non mettete troppa pressione su voi stessi. Trovate invece un modo per lavorare ogni giorno al 1% per raggiungere il vostro obiettivo. Che si tratti di perdere peso, imparare una nuova abilità o progredire sul lavoro, il principio del 1% potrebbe fare al caso vostro. Siete incuriositi? Scoprite le otto leggi chiave del principio del 1%. La prima legge è la legge del piccolo. In pratica si riduce a questo, non trascurare le piccole cose, perché sono quelle che fanno accadere le grandi cose. Le piccole cose tendono a essere trascurate dalla società in generale, ma come molti sanno, se ti occupi delle piccole cose, le grandi si prenderanno cura di loro stesse, spiega Tom. La maggior parte delle nostre decisioni e azioni sono piccole e si svolgono nell'arco di pochi secondi. Tuttavia, una decisione presa in un istante può riecheggiare nell'eternità in modo positivo o negativo. Il piccolo è importante. Il piccolo è il re. Quindi, se state cercando di perdere peso, un piccolo cambiamento potrebbe essere quello di portarvi uno spuntino sano da casa al lavoro ogni giorno per mantenervi sulla strada giusta. Oppure fare una passeggiata di 10 minuti ogni giorno. Fissate un mini obiettivo facile da raggiungere ogni giorno. Volete saperne di più? Cliccate qui per scoprire le otto leggi chiave del principio del 1% di Tom O'Neill. Legge 2 La legge dell'effetto cumulativo Avete mai notato che se iniziate a sentirvi positivi in un'area della vostra vita, anche le altre aree sembrano migliorare? Questa è la seconda legge di Tom. Ogni piccola decisione positiva in un'area specifica fa sì che la palla di neve cresca rapidamente, facendo sì che quest'area della vostra vita progredisca velocemente. Credo che avere una vita di successo sia un processo molto semplice. Più scelte sagge e positive si fanno, più si avrà successo. Tom utilizza questa teoria come esempio di scelte alimentari. La decisione di mangiare patatine fritte invece di una mela può non sembrare un grosso problema. Tuttavia, se si moltiplicano le calorie delle patatine fritte, 360 calorie in una porzione da 135 grammi, ogni giorno per 10 anni, 1.314.871 calorie rispetto a una mela, i 72 calorie, ogni giorno per 10 anni, 262.974. La differenza è impressionante. L'effetto cumulativo di scelte alimentari sbagliate nel corso della vita porterà a diabete, problemi cardiaci e cattiva salute generale, spiega Tom. Buone scelte quotidiane, invece, vi regaleranno probabilmente altri 20-30 anni di piena salute da condividere con la vostra famiglia. Legge 3. La legge del positivo e del negativo. Una decisione può essere positiva o negativa e renderà la vostra vita migliore o peggiore, avvicinandovi o allontanandovi dai vostri obiettivi e da chi volete essere, dice Tom. Piccoli e positivi ritocchi e cambiamenti al vostro stile di vita vi faranno fare grandi progressi verso la meta che volete raggiungere. Meno correzioni negative si fanno, meno energia personale si dovrà spendere per tornare in carreggiata. Quando sarete al posto di pilotaggio e prenderete in mano i comandi della vostra vita, i vostri obiettivi inizieranno a prendere vita propria. Ciò che iniziamo a costruire inizierà a costruire noi. Legge 4. La legge del cambiamento graduale. La legge del cambiamento graduale si concentra sul fatto che oggi abbiamo solo una quantità limitata di tempo per avere un impatto positivo sulla nostra vita e su quella degli altri. Dice Tom. Lo slancio e l'impatto che si ha su se stessi e su coloro che ci circondano è legato direttamente alle piccole scelte quotidiane. Il cambiamento graduale tende a consolidarsi e a diventare uno stile di vita, mentre il cambiamento istantaneo può essere solo passeggero e svanire rapidamente. Il potere del principio del 1% consiste nel fatto che basta fare un solo vero miglioramento oggi per avere successo. Il risultato positivo è che quando si apportano costantemente cambiamenti positivi nella propria vita, si diventa più forti e meno tentati di procrastinare. Perdere peso è un buon esempio di questa legge. Sebbene il risultato iniziale di una rapida perdita di peso possa essere positivo, di norma non è possibile continuare a seguire questo stile di vita e le vecchie abitudini e i vecchi comportamenti riprenderanno il sopravvento una volta raggiunto il peso forma. Tuttavia, un approccio più misurato, mirato e a lungo termine alla perdita di peso vi permetterà di ottenere piccoli cambiamenti positivi, a un ritmo e con uno stile di vita gestibili. Legge 5. La legge del miglioramento costante La legge del miglioramento costante in azione si riferisce ai piccoli cambiamenti che fate ogni giorno e che porteranno a risultati positivi. Tom illustra il formato che potete applicare per iniziare a far sì che questo accada. 1. Valutare le aree chiave della vostra vita. 2. Misurate le vostre prestazioni in queste aree. 3. Create un modo innovativo per migliorare leggermente le vostre prestazioni quotidiane in una di queste aree. 4. Ripetete ogni giorno l'applicazione del principio del R1%. L'adozione di una di queste misure ogni giorno rafforza la vostra decisione, spiega Tom. E questo vi porterà a diventare più competenti in diverse aree della vostra vita. 4. Legge 6. La legge del seminare e raccogliere Quando investite in un compito o in un'abilità particolare, le vostre opportunità di sviluppare questa capacità migliorano, spiega Tom. Questo porta a nuove opportunità di cui non eravate a conoscenza e a una maggiore crescita personale. Quando seminate continuamente cambiamenti positivi nella vostra vita, il principio del R1% mette il turbo alle vostre prestazioni, aiutandovi a raccogliere i frutti e a raggiungere più velocemente il livello successivo. Ad esempio, Tom ha contattato la Harvard Business Review per scrivere un articolo sulle carriere. Dopo essere stato pubblicato sulla Harvard Business Review, ha mostrato il suo articolo pubblicato a The Economist e ha potuto scrivere una QEA settimanale sul loro sito. Poi la Harvard Business Review ha visto il suo lavoro per The Economist e gli ha chiesto di scrivere una sezione per il libro che stavano scrivendo. Ogni successo ottenuto porta con sé altre opportunità. Legge 7. La legge della decisione e dell'azione Nulla accade senza una decisione e un'azione corrispondente, dice Tom. La maggior parte delle persone non riesce a raggiungere il proprio potenziale perché non prende una decisione e non la porta a termine. Anche se un obiettivo gigantesco non può essere facilmente compreso, i piccoli passi garantiscono che l'obiettivo venga prima messo a fuoco e poi portato a termine. Non importa quanto grandi o piccoli siano i vostri obiettivi, potete sempre vedere lontano per fare il passo successivo. Theodore Roosevelt dice, in ogni momento di decisione, la cosa migliore che puoi fare è la cosa giusta, la successiva cosa migliore che puoi fare è la cosa sbagliata, e la cosa peggiore che puoi fare è niente. Legge 8. La legge del paradosso Per ottenere qualcosa domani, devi rinunciare a qualcosa oggi, spiega Tom. Ogni giorno ci troviamo di fronte a innumerevoli opportunità di scegliere tra un'azione a breve termine per soddisfare un desiderio e il mantenimento di un obiettivo a lungo termine. Il successo in qualsiasi aspetto della vita richiede e richiede un costo che deve essere pagato per primo. Per investire nel proprio futuro e in quello degli altri, a volte è necessario fare cose dure, altruistiche e paurose oggi, per poter raggiungere i propri obiettivi domani.